Resta irrisolto il problema delle fronde degli alberi di via Principe di Napoli. È appena entrato il mese di settembre, ma gli alberi non sono stati ancora tagliati e ostacolano anche il regolare passaggio dei pedoni sul mercepiede. A lamentare i disagi sono soprattutto i residenti in zona. Negli anni passati a settembre questo tipo di bonifica era già stata espletata tramite l'affiudamento a ditte private. Quest'anno invece tutto ancora tace. Sarebbe il caso di intervenire con celerità per ridare un tocco di pulizia e decoro a una via che è una delle principali arterie della città. E' quanto si augurano i residenti. Oltre alla difficoltà di attraversamento sui marciapiede, da loro parole, c'è poi anche il problema legato al guano degli uccelli che contribuisce a sporcare i marciapiede. Chiediamo che si intervenga con urgenza per ridare un tocco di decoro a una delle vie più importanti della città. Diverse volte durante la stagione estiva era stata chiesta la potatura delle fronde degli alberi che crescono su uno dei due viali dell'arteria e che collega il quartiere marina con la spiaggia di Marianello, meta quotidiana di parecchi turisti. La capitozzatura degli alberi ovviamente non si dovrebbe esaurire solo in via Principe di Napoli ma dovrebbe proseguire anche nelle altre zone della città dove crescono alberi. Interventi andrebbero messi in atto anche in Corso Roma e Corso Umberto nelle immediate vicinanze del municipio dove anche qui le affronte hanno raggiunto una notevole estensione.